Giornata conclusiva del Matera Sport Film Festival, premiazioni e proiezioni all'insegna della cultura e dell'impegno sociale. Francesco Bonaduce. Lo sport è scuola di vita, per me ha segnato e segna ancora tutto ciò che fa parte della quotidianità, sacrificio, la passione, la determinazione. E con la testimonianza del marciatore Francesco Fortunato che comincia l'ultima giornata del Matera Sport Film Festival. L'atleta del gruppo Fiamme Gialle vanta due partecipazioni alle Olimpiadi. La mia è una disciplina di fatica, fatica e sacrificio quotidiano. È importante per me trasmettere anche altre persone che non solo attraverso il divertimento si possono ottenere delle soddisfazioni. Al Cinema Guerrieri la platea è fatta di studenti, lo sguardo della 14esima edizione della Rassegna è infatti rivolto alle nuove generazioni. Lo sport è sempre di più un progetto di vita delle famiglie, lo sport è sempre di più un veicolo per parlare ai ragazzi. Proiezioni, dibattiti, interviste, confronti su storia di sport arrivate da tutto il mondo. Che ci raccontano i veri valori dello sport, cose reali e lo sport ci può raccontare mille storie dietro ogni angolo. Stasera la cerimonia conclusiva di premiazione al Cineteatro Il Piccolo ha segnato anche il premio dell'Unione Stampa Sportiva Italiana Nino Grilli. Riconoscimenti a Massimiliano Castellani, Mimma Caligaris, Marco Lollobrigida e Monica Matano. Quest'ultima ha raccontato la storia di Margherita presente al suo fianco. 11 anni, normodotata, che ha scelto di praticare il basket in carrozzina. Una storia di inclusione, di solidarietà che ribadisce quelli che sono i veri valori dello sport. Il basket in carrozzina mi insegna sempre che si può andare alla stessa velocità, dato che quando ci si siede in carrozzina siamo tutti uguali e si può giocare insieme allo stesso livello.